Benvenuti sul canale, anche oggi continuiamo con No Rest for the Wicked Ok? Bene Allora Accendiamo il PC Facciamo Così Et voilà Schermata iniziale pronta, siamo di livello 4 Abbiamo fatto delle... Abbiamo fatto poche cose, diciamo Ma le abbiamo fatte bene Ma le abbiamo fatte bene Benvenuti, raga Benvenuti Vi ricordo che c'è anche il drop Di Twitch attivo Per No Rest for the Wicked Noi abbiamo giocato fino adesso con delle impostazioni Punta le misce automaticamente on Ma quasi che la toglierei Vabbè Vediamo dopo Limite framerate Mettiamolo a 60 il framerate Così è limitato E un'altra cosa Abbiamo fatto prestazioni Proviamo qualità Per vedere come va E intanto si continua Ovviamente Stiamo facendo molto anche se non sono esperto con i Soulslike Ma non c'è da essere esperti Questo anzi è un... Una buona introduzione ai Soulslike secondo me Ciao LightPiro Che codice devo inserire su Instant Gaming? Non devi inserire nessun codice LightPiro Basta che Clicchi questo link E qualsiasi cosa tu acquisti da questo link Viene registrato come Affiliato a me Junk Grazie mille Grandissimo Bentornato nella classe del professor Quarzo Grazie 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 Buongiorno Cesco Grazie Junk Grazie ancora Ciao Massakan Buongiorno anche a te Mastrochi Ciao ragazzi Benvenuti Benvenuti Ma sto gioco sto impazzendo E sto gioco raga è bello È bello Ma bello forte Non bellino, carino, caruccio Una piccola perla È una bomba Proprio Una bomba proprio Molto divertente Simo Sì 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 Assolutamente Bello forte e divertente Esatto Non ha la difficoltà di un Souls Ma chi se ne frega Perché è comunque soddisfacente Pensato bene Bellissimo da vedere Io sono veramente Veramente soddisfatto Quello che pensavo Sarebbe stato il gioco Il gioco lo è E ancora di più E ancora di più Anche il platforming è figo È vero È vero è vero Anche il platforming è figo Cioè proprio È tutto Fatto bene Infatti vedo l'ora Di continuare a giocare Cosa che adesso facciamo Allora noi avevamo sbloccato questo E venivamo credo da qua Oddio non lo so Che venivamo da qua a sto punto Bastardi Mangia Stronzo Ma guarda sto stronzo Che m'ha buttato di sotto Mi sono andato a dormire a luna Non sono riuscito a uccidere il boss Però mi sono divertito un mondo È Ok Secondo me non è comunque Alla difficoltà di un Souls Però Però è comunque soddisfacente Ok Mi è rimasto un altro Uh Ostia Bottino ricco eh Bottino molto ricco Usiamo una zuppa Usiamo una zuppa Dai Allora adesso ho messo Qualità E non prestazioni Per vedere un po' la differenza E forse attivo anche il V-Sync Va Piccola domanda In un video vecchio Dicesti che acquista il gioco in early Avrà se non sbaglio un'armatura Se lo compro ci gioco tra un paio di settimane Conta lo stesso? Sì Conta solo acquistarlo Esattamente Ciao per Magnus Buongiorno Ilario È disponibile per adesso Solo su PC Perché è in early access Ma poi Una volta che il gioco uscirà All'early access Sarà disponibile per tutte le piattaforme Per tutte le piattaforme Per Oddio No No Non ci sono le mappe Dei dungeon Ok È proprio un Souls ragazzi Anche dal punto di vista L'esplorazione Qua si scende Ok Noi eravamo venuti da qua Voglio mettere il V-Sync Per vedere se Riusciamo a togliere queste linee Verticali E orizzontali Proviamo L'abbiamo eliminata Meglio con il V-Sync Assolutamente Ora scendiamo di qua Noi stiamo facendo Vi ricordo Una missione secondaria In questo momento La barra della stabilità Del nemico È quella Scusate Mi stacchiamo a qualcuno Col cavolo che rispondo Col cavolo che rispondo Come devo fare? Oh La figa Le sore Vabbè Aspetto Ok Cerchiamo di scendere Di qua Non mi ricordo Come si salta Bastava Tenere premuto Mannaggia a me Allora L'unica cosa Che mi manca È il TP È una bella È una bella Tassa Però Aggiungi anche Qualcosina di carino Per Per il gameplay Secondo me Perché Dover pensare A dove Potrebbe essere Una cosa carina Però Dipende Bisogna andare avanti Secondo me Per capirlo bene Cioè io devo andare avanti Quanto meno Tu magari hai giocato più di me E lo sai già Bocciolo di Iona Trovato Che succede? Mercante di pozione Abbiamo trovato il bocciolo di Iona Ma non appena abbiamo toccato qualcosa È Le parole si scompongono Nuovo sentiero è rivelato Dobbiamo salire più in alto Ma che vuol dire? È cambiato qualcosa sulla mappa Allora probabilmente Non cadere giù Che non si capisce niente qua Ah Oddio Ok Sono comparse delle scalette Scalette spiritiche Le chiamiamo così? Le chiamiamo scalette spiritiche? Vediamo un po' Se qua magari cambia qualcosa No Scusate Perché diceva Dobbiamo salire più in alto Non è che c'è Qualche altro posto qua Che non ho visto? Qua c'è una roccia Qua un'altra Qua giù Sembra non esserci nulla Ma non vedo una cippa Vabbè Rifacciamo il giro Torniamo indietro Vediamo se indietro È cambiato qualcosa Credo che questa sia La cosa da fare adesso Più o meno sono lì Perché di sera con amici Abbiamo ricominciato tre volte Per far prendere la mano A livello 1 a tutti Mi uccide anche uno per volta E non compare più quando muori Riparti Esatto Esatto Fabbro non è molto lontano Vabbè non mi frega Del fabbro adesso Ah vedi E il forziere così Lo otteniamo Mi chiedo Se a questo punto Sia anche possibile Raggiungere quel forziere Raggiù Pare che No Secondo me Torniamo ancora indietro E vediamo Se è sicuramente Cambiato qualcos'altro Ancora Ok Qui c'è una scaretta Per venire su Ecco vedi Tipo questo Prima non c'era Chiaramente Ah Ok Ok Nuova area Sbloccata In sostanza Pare che Non ci siano nemici Stavo per dire E ho detto subito Una cazzata Oh Sembra arrabbiato Questo è Oh Allora Sto bruciando Devo Devo innanzitutto Curarmi Oh Oh Guanti Dell'arciera Abietto Ecco Eh che c'è qua Lassù come ci arriviamo Adesso Da qua Pare di no Non mi sembra Che sia il modo migliore Che sia il modo migliore per Raggiungerlo E forse il modo migliore per morire Più che altro Ciao Jacopo Buongiorno Carichetterai questi gameplay sul tubo? Sì Sì assolutamente Il primo L'ho 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 caricato Ma non ancora pubblicato Lo pubblicherò O oggi pomeriggio O domani mattina E questo lo carico poi In seguito C'era il No è stronzo Morto Eh Amen Si riparte Ci sono morti una volta Ma poi avevo pochi cibi Quindi sono andato cauto È molto bello It's Bricco Assolutamente Molto molto bello E tra parentesi Su Instant Gaming c'è Quindi lo potete acquistare Se lo volete Acquistatelo là Così Fate anche un favore A me Tra virgolette Scusate ma Devo riandare Ad attivarla La cosa Si Come se non fosse Stata attivata Va bene Attiviamo No Attiviamo E adesso Torniamo di là Che quei due Su console Attenzione Faccio una Faccio una E che in realtà Non so nemmeno Quanta risonanza Possa avere Ci devo pensare Ci devo pensare Gioco dell'anno Per me Al momento Il migliore del 2024 Non ho ancora finito Final Fantasy VII Rebirth Ma Quello è una formula Già vista Eccetera Questo qua Quanto meno Ha delle Spunte di innovazione Che Mancano In In altri titoli usciti Quest'anno No Questa l'avevo Già fatto Che sto a fa Niente Dobbiamo tornare indietro Qui Già fa Dove tornare indietro ancora Non casca Per carità Sa un design Veramente Veramente Figo pure A parte visivamente Artisticamente Che è un gioco Maestoso Ma Anche il sound design Merita Di essere Elogiato Secondo me Wikif Grazie mille Per l'abbonamento Regalato Grandissimo Grazie 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 Bentornato Nella classe Il professor Quarzo Mark of War Grazie mille Wikif Buongiorno Zappo Anche tu hai Difficoltà Nell'orientare Di capire cosa Scala E cosa no Senza sbattaci la faccia Devono drasticamente Migliorare la mappa No drasticamente Non è una parola Che mi sentirei utilizzare Io mi trovo abbastanza bene In realtà Ciao Mimmo Buongiorno Buongiorno anche a te Silvio Io mi trovo abbastanza bene Mi oriento bene Nonostante il gioco sia comunque In Che è successo Non se sa Nonostante il gioco sia comunque in accesso anticipato Io mi ci trovo Bene Riesco ad orientarmi Insomma Non mi sembra Non mi sembra che ci siano cose da cambiare a livello di level design L'ambientazione ripetitiva Guarda abbiamo visto pochissimo ancora Non me la sento di dire Ho giocato due ore Due ore circa Non posso dire se è l'ambientazione ripetitiva Questa poi è una caverna Un dungeon Insostante Piasse sonno Insostanza Ok Un altro anello della luna Vediamo se è meglio di quello che abbiamo È a tempo? No Non è a tempo Pensavo fosse andato via l'effetto Del bocciolo lì Attenzione Ah si salta? Eh però Porca puttana Allora in basso a destra Quei simbolini sono quelli dell'integrità Al momento Se voi vedete Il mio scudo è integrito a 35 Il cappuccio 13 La tunica 30 19 L'anello 40 Dobbiamo stare attenti Io non sapendo cosa si rompe Cosa no Cambio equipaggiamento Sono appesante Però così Così no Cambiamo anche l'anello Cambiamo anche l'anello che non vorrei che si rompesse E è potentissimo Ci metto un altro Un anello della runa Gli attacchi Gli attacchi riunici Infliggono 25 danni aggiuntivi 25% di danni aggiuntivi Vai Riendiamo ad attivarla Questa forse non dovevano farcela riattivare però Puoi diparare se hai pezzi giusti Lo so Fabri Ma mi serve il Fabro Quali stat PC hai? Ho una 40-70 E un Non mi ricordo Ryzen Eh non me lo ricordo Non mi ricordo il processore Però con l'an 40-70 gira bene Specialmente adesso che ho loccato il framerate A differenza di ieri Gira meglio Ieri ero a Non avevo il v-sync attivo E avevo il framerate sbloccato Non No Meglio così Ciao Cendas Buongiorno Con una 30-60-80 ti hai E' una madonna La 80 ti hai E' meglio della mia Vai tranquillo Io sto anche streammando eh Ma tocca riammazzarli No giusto Questi abbiamo ammazzati Quindi non ci sono più Oh va su Oh Ok Mamma mia Per le penne Oh Non farmi fare altri Ma porca puzzolana Quello? Ci arrivo? Tocca provarci Santo Dio Mamma Oh ce l'abbiamo fatta Animazioni stupende Anche le animazioni di morte Frammento armatura Radice artemisia Che ha carbone scheggiato Ma io da qua ci arrivo da là? Mi sa de no Secondo me io arrivo là Esatto No 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 Eh ma sei stronzo forte Così eh Ma dai Ma che bastardata è questa Scusate Ok Uh Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che bel rumore che fa Quando stai sul ponte fantasma Sì 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 Eh lo so Glaciasphere Lo so Lo so Ieri andavo così Level up Vi faccio vedere anche il level up Va se Ieri qualcuno Magari non c'era Eh Prendiamo anche il minerale Per le penne un po' l'equivalente di Prepecore di Truisi Truisi e Benigni Per le penne? Ho detto per le penne io? Non è una cosa che dico spesso Ma come non c'è abbastanza spazio È stronzo allora Ah intanto facciamo il level up Allora Quest'arma scala in forza e fede Se io tiro su fede però Non fa più niente Se tiro su forza Non cambia comunque C'è qualcosa di strano Allora Non ho capito bene come funziona lo scaling Ieri Ho tirato su un punto in fede E mi è andato su d3 l'attacco Mentre se tiravo su destrezza Non succedeva niente Oggi Tiro su e non cambia niente Né se tiro su forza Né se tiro su fede Forse ci sono degli scalini Che non sono segnalati Cioè Al raggiungimento di Che ne so 6 punti in fede L'arma aumenta Di potenza Però dovrebbe essere segnalato Se è così Oppure un bug Non tengo né putta idea Così aumentano i punti concentrazione Per usare più spesso le abilità Io lo farei E anche la capacità di carico Per adesso facciamo così E comunque io continuo a non avere spazio nell'inventario Ah zuppa di granchio Impariamo la ricetta intanto Perché qua ho troppa roba Ci sarà un baule Sì in città c'era Ma io non me so Eh vabbè Amen Succede qua Che Uh Uh Senti ma Non rischiamo per adesso Se trovo un altro Checkpoint ok Se no Non rischio Mmm Qui c'è qualcosina eh Comunque Tocchi in fungo E che succede Allucinazioni No ito ma lo sto giocando Ieri sera Raccogliere il bocciolo Si è rivelato impossibile Il fiore ha lacerato le frasi E trasformato la caverna attorno a noi Dobbiamo tornare da Marcos Oh Quanto è più bello così Senza l'effetto della Della cosa che Senti li estraiamo No richiede pickaxe E' rotta Sai che si è rotta Si è rotta Si è rotta Il piccone Sai che qui non ci posso andare E torniamo indietro Torniamo indietro E amen Eh torniamo indietro come però Oh santo dio Qua? No Molte voglio Molte voglio Che noi siamo arrivati qui Grazie a Il sentiero Quello lì no? Prossimo Butto di sotto Muoio A questo punto Proviamo a buttarci di sotto di qua C'è l'acqua Giustamente c'è l'acqua Quindi possiamo Vediamo se qua c'è qualcosina No Gogna del prigioniere Un elmo No Fantastico Che mi sta da dire? Cioè scusate eh Scusate Eccoci qua Bondi Bondi classe Ho saputo che ci sono state parecchie recensioni negative Eppure a parte il discorso di ottimizzazione Sembrano cagate Recensioni negative Ma stanno male? Ma stanno male Se hanno fatto recensioni negative stanno male Io anzi vi invito ad andare su Il sito di Stan Gaming Per acquistare questo gioco In realtà Potete acquistare un sacco di giochi a prezzi scontati Quindi fatelo perché sono ovviamente Partner di Stan Gaming E quindi supportate il canale in questo modo E soprattutto partecipate anche Alla giveaway Giveaway mensile In cui uno di voi al mese Può vincere Un gioco a sua scelta Se viene estratto A fine mese va arrivare la mail E voilà Parliamo con Marcus intanto Vediamo che ci dice Hai capito Si sposta A sacramento Ok Ok Cuciniamo anche qualcosa Ragazzi intanto benvenuti Benvenuti Grazie ad essere qua Se avete domande da fare Fatele E vi risponderò Cuciniamo un po' di granchio Così abbiamo un po' di robetta Oramai su Steam si fa La gara di bimbi minchia Neanche le guardo più le recensioni Eh capisco Non ho l'herba Artemisia Solo Niente E quindi Via Quindi lui si sposta Ha detto Nessuno di noi è morto Per cause naturali Tutti morti a causa Delle pozioni Che hanno fatto Può essere Ora Io non ricordo dove Da dove Eravamo Entrati in questa caverna Ah Dalla fortezza del marinaro Perché io volevo andare indietro Perché volevo andare indietro Perché ci avevo Una Una chiave Che non ho utilizzato Che volevo capire Che porta aprisse Ecco qua succede qualcosa Già eh A livello di Leggero stuttering Avevo la chiave del refettorio Permette di accedere al refettorio della fortezza del marinaio Possiamo E del ripostiglio Refettorio Ripostiglio Però la fortezza del marinaio è qua giù Quindi andiamo giù E vediamo se riusciamo a Ad entrare Facciamo così Uh lì c'è uno scrigno per esempio Eh facciamo così No pelle lavorata Ah perché qua ero caduto Avevo fatto il giro Sto casino Vabbè rientriamo dalla porta principale Diciamo Facendo il giro da qui E da lì vediamo Rifacciamo il giro praticamente della fortezza Per vedere se troviamo qualcosa Guanti del ladro vagabondo Uh queste sì Lui ormai è moruto Eccoci Qua c'è la fortezza Perfetto Da qua possiamo cercare di Oh la fortezza è questa addirittura Tipo già là dietro c'è qualcosa Allora Procediamo Piano piano Ma perché qui ci sono tutti oggetti che non Attenzione Io non ero salito su queste scale Può essere No non può essere dai Però sta stanza mica me la ricordo Effettivamente Per esempio Guarda Questa Occorre chiave del ponte a ovest Però vedete questa è una zona in cui non sono stato Perciò ora esploriamo per bene No non è vero qua sì Che cazzo De casino Perché queste sono le scale che vengono su da Qua Ok questi responano Sono oggetti che Responano una seconda volta Chi non può farmare soldi così Anche i topi responano Ah intanto io c'ho un altro level up Perché lui mi ha dato La pozione Che dà 200 esperienza Voilà Statistiche Senti il problema fa così Due E una Vediamo se c'è veramente una Una scaletta diciamo Ecco vedete qua Stattera un po' Chiaramente Buongiorno Pitches Ciao Supermela Ci è risalito Eh sì sì infatti infatti La gente lo sconsiglia perché non c'è il key binding Ma stanno male Hai già avuto un modo di sperimentare No l'housing ancora non Non l'ho Nemmeno provato Ciao Ita Buongiorno 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 Allora Eh forse c'era qualcosa da aprire qua Questa era Qui c'era la chiave del refettorio E va bene Ma rispondono pure i forzieri? Strana sta roba eh Ecco questo non lo farei Scelta dello scalatore Questo è un martello un po' più forte di quello che ho È lo stesso Esempla Cioè Lo stesso tipo ma un esemplare differente Che è un pochino più forte Ve lo faccio vedere Questo ha 7-10 L'altro 8-10 Ok Forzieri ragazzi l'avevamo già presi eh Non vi preoccupate Sta roba non la vorrei Vorrei che i forzieri non Non spawnassero Ancora Qui c'era la leva da Allora aspetta E qua c'è un'altra porta Chiave del ripostiglio Oh ci abbiamo fatta Pala Ce l'avevamo già però va bene E Nel mio bruto non c'ho spazio per tenerlo Ne ho già un altro ma Possiamo scartare i pantaloni ceri ma brandelli Sì Tu che gioco su stream potresti fare le prove di giocare via GeForce Now? Guarda Non in live però Perché devo aprire GeForce Now C'è tutta un'impostazione con la visuale famiglia che devo fare Che è un casino Posso farlo fuori dalla live E vedere se riesco a farlo girare E vi posto il video su YouTube Quello lo posso fare Andiamo a Sacrament Dove dovevamo andare ieri sera Sì esistono picconi più potenti Sì 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 Allora Elsa Una storica Questa ci racconterà un sacco di roba Una tomba Me dici qualcosa per caso adesso se ti riparlo Si strozzano con or- Bello La morte è un'arte perduta Le persone inciampano per strada E muoiono Annegano i torrenti Si strozzano con le ossa di pollo Ma la vostra specie ne ha perfezionato la forma Per questo ho dedicato la mia vita a studiare voi Serim Le vostre rovine Le vostre abitudini Il vostro massacro Ok Molto bello Taglia di morte Nome Leros Crimini Ma io questo lo posso trovare a ammazzare Assassini o rapina Sequestro di persona Una banda di briganti Tutta al femminile Ogni membro indossa una sciarpa rossa A onore del loro metodo di aggressione prediletto Il taglio della gola Ma che figata è Non sono noti principi o ideologie Oltre al caos e al profitto Cioè Il dettaglio di aver scritto in questa descrizione Ogni membro indossa una sciarpa rossa A onore del loro metodo di aggressione prediletto Il taglio della gola Ti fa capire quanto questi vogliono bene al gioco che hanno fatto Sì ha un piano base gratis Esatto Allora Ovviamente Pure la mappa Della città È un bel casino Oggetti scartati E amen Vabbè noi esploriamo e vediamo Vorrei trovare un baule io Ok questo è il ladro Ha confessato senza nemmeno pensarci in mezzo secondo Vedete la città è bella distruttina Andiamo avanti Gli manca la panna E gli mancano le torte Effettivamente non sembra un mondo in cui Insomma Predisposto per i dolciumi Un posto in cui Magni la segatura Con i funghi Mamma che casino Sì pure da sotto Vai Che non basta Seguiamo su torrente Vediamo dove c'è porta Qua Questo sembrano tipo i passi fondi della città Quella è ubriaca Lercia E sta bevendo Benvenuto al nostro piccolo angolo di sacra Ma che vuol dire angolo? Eh non ce l'ho Questo sta pulendo invece No Chiusa Là c'è una scala Ho visto bene Sì Mamma che ca... Raga la mappa è veramente complessa Un altro di quelli Di quei posti Di questi posti con i fiori Bluastri Sta porta è chiusa Cioè Forse non Non è nemmeno previsto che ci entriamo Così come qua Ma guardate che belli scorci poi Parliamo con l'ubriacona Corpus Sì questi sono proprio i puretti Con i funghi sopra i detti della casa Sto trovando Fugus Insieme ai elementi action RPG anche qualcosa che mi ricordi Metroidvania Ciao Kyle Buongiorno Kyle Non so sai che cazzo ho detto Ehm Andiamo su Sì è una mescolanza Ma che poi Ha anche dei Leggeri elementi Di innovazione Riguardo Tutte queste cose Ok Qui che è Casa sua Esatto Sì Io raga Non sto capendo Dove sono O eroe O pioniere Dove nessuna nave Aveva salpato Nessun nobile Più è giunto Dai tempi della grande peste Lui portò vita e luce Ed edificò questa città O padre O figlio dell'abbraccio Tramite codeste Pietre e bandiere Scavate da terra e ossa Portò ordine Nell'eresia Ed edificò Questa città Questo è Colui che ha costruito Sacrament No Verso la piccionaia Ok sto andando Non si sa come Dalla parte giusta La piccionaia è proprio Oltre il ponte Mo ci andiamo Qui sono Piccionaia Passo innominato Raga è Cioè è gigante Sta città Poi Le guardie conoscono bene Il mio volto E la mia reputazione La mia impareggiabile reputazione Ok Lui mi vorrebbe sfidare Qui posso Fare pratica Credo E questo Pure qui Questa roba si sbloccherà Immagino Vi attende una morte Orribile Grazie No è la prima città Kyle Ce n'è solo una Capone Buongiorno Questo gioco Sulla Steam Deck Non è subito Dal bagno Effettivamente Ciao Black One Buongiorno Bentornato Ah un po' di piante Va Un po' di erba Il ponte Ha detto Il ponte dov'è E perché qua c'è un coso Ha detto Oltre il ponte Quale ponte Ridimmelo Scusa Oltre il ponte Indicava tipo qua Ma qua a me pare Non c'è un ponte Quindi forse ho sbagliato Ah no Questo è il ponte E io sto sotto Fili di Utah Non c'ho più spazio Senti scarto questi Fili di Utah Li prendiamo Facciamo così Il ponte forse è questo qua Mi pare di ricordare Che qua a sinistra Ce ne fosse uno Ah qua posso cucinare Aspetta un po' Almeno ci togliamo Un po' di roba Vai Zuppa di granchio E via Ma la chest Dove mettere le robe Dove si trova E triangle strategy Bellissimo il nome Non lo so Morietta L'arcana So cosa vi attende Ok quindi mi fai pagare Una razza mistica Ormai completamente estinta Siete sicuri Che sia completamente estinta Così eh Aspetta eh Raga incredibile Io sono in contatto Con i PR italiani Di No Rest for the Wicked Che mi hanno appena scritto Dicendo scusaci I codici non sono ancora arrivati Nel frattempo Quelli internazionali Me l'hanno mandato Ma vaffanculo Incompetenti E me l'hanno mandato Senza che io Vi l'abbia chiesto Tra parentesi Quando la gente Non capisce La gente non capisce Basta Basta Oltre il ponte Questo è il ponte No No Lui mi indicava su La piccionaia Piccionaia Cioè Sta in alto No Piccionaia Vedi In basso a sinistra E allora È qua Questo è il ponte Mannaggia mia Eh non lo so Piccionaia Giusto Oh Ci siamo Vai Questo sta malino Eh Quanto so belli i disegni Le illustrazioni Le animazioni Guai Ah Pare Game of Thrones, capito? A livello di dialoghi Quindi lei era il suo fratello Dilo fra un anno e mezzo Ciao Alex Lo alzo adesso capone Sta tipo la figlia Siamo iniziando un corpo A parte della strada Con i altri animali Considera questa un'offering Di la città Onde era la città Quando i nostri amici Sì e stavolta Siamo finissima Béggando per scruz Noi prendiamo ciò che bisogna. Odessa. Non. Perciò che il governo potrà migliorare la sua propria figlia. Almeno bene che ha governato la sua città. Mi scelta, Madrigal. È... Non sta per Sacrament. Sì, certo che non ho. Guardi. Passarla. Questa via, Rithyn. Non avrei mai parlato di questo piccolo movimento. Lei è un'insorta, quindi è... opposta a Sacrament. Sì. C'è qualcosa che possiamo fare? Puoi rilassare, governatore. Madonna. Ma posso dirvi una cosa? Adesso ve la dico. Ok. Quindi qua c'è il baule, credo. Sì. 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 È veramente incredibile. Cioè, è coinvolgente. Nonostante non sia realistico. È coinvolgente. E questa è una cosa che non mi aspettavo da un gioco come questo. Non me lo aspettavo. Ti amo il benvenuto in un nuovo alloggio. Può depositare gli oggetti nel tuo inventario e condividere con gli altri giocatori tramite le forziere della community. Ogni giocatore del Reame può depositare e ritirare gli oggetti in questo forziere. Ok. Forziere. Allora. Ci mettiamo la spada di legno. Cioè, in realtà io vorrei anche venderle, ste robe. Però per adesso mettiamole qua. Queste le voglio sistemare, quindi me le tengo. C'è anche la roba che indosso? No. 30. Questo sicuramente lo lasciamo. 18, 17. 18, 17. Tunica, emalcazione, pantaloni del bruto. Eh. Questi me li porto dietro. Per te o dietro. 3. Questa la lasciamo qua. Tanto tanto equipaggiamento non lo troveremo, quindi dovrebbe bastà. Via. E però aspetta, boni. Che ci abbiamo anche. Sto tizione che devo capire che serve. Depositiamo tutti. Fiala di concentrazione. Depositiamo 5. Olio. Fiala di equilibrio. Depositiamo tutte 5. Non lo userò mai. Aumenta il vigore. Voglio abituarmi prima così. Poi casomai le uso queste. Legno di pino. Depositiamo. Topazio. Spero che poi quando andiamo dal fabbro. No, il granchio no però. Aspetta. La carne, il granchio no. Voglio portarmi solo la roba per cucinare dietro praticamente. Spero che poi quando andiamo a creare oggetti eccetera eccetera. Mi continuo anche gli oggetti che stanno qua dentro. Puzioni, olie ed elisir. Via. Puzioni ed elisir. Via. Infondere. Creare armi. Creare e migliorare equipaggiamento. Ricette. Alimentare torci ed esplosivi. Ok. A posto. Danos. Benvenuti intanto ragazzi eh. Ciao a tutti. Se avete domande fatele. A visita. A visita. Of course. I've told the watcher this tower's not fit for livestock. And yet there he goes. Boarding any stranger that comes along. You'll have to head upstairs. There's no way down for now. Ok. My staircase should be too. Would get us to the market in half the time. Most days you'll find me not far from there. In the square. della guerra. È un costruttore lui. Maker Danos. I can repair. Con i materiali giusti posso sistemare tutto. Eccetto la pigrizia. Aha. Quindi credo che adesso potremmo anche cominciare a riparare la città. Così da sbloccare che ne so fabbri e simili per migliorare armi. Creare pozioni. Unguenti. E robe varie. Perché era troppo bella. La cogna era troppo bella. Ah già quello è lo schifo che abbiamo battuto. Ciao Giovanni benvenuto. Sì luce grafica sono fantastici. Ah il volume bravo 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 bravo. Eh. Il volume lo alziamo. L'ho praticamente raddoppiato in teoria eh. Quindi dovrebbe andar bene. Se è troppo alto me lo dite. Quindi il sangue era alterato. L'osservatore deve averlo raffinato. Purificato. Ok. Cioè dobbiamo berci quel sangue? Ah. Ogni volta che batto un boss posso sbloccare 5 slot inventario equipaggiamento. Slot inventario oggetti. Inventario risorse. Inventario vari. Slot attrezzo. Slot anello. Slot mano secondaria. Slot mano primaria. Uno solo ne posso sbloccare? Io vorrei l'anello. Così c'ho due anelli. Vabbè in realtà è comodo tanto questo. Quello per le risorse. Sì però adesso sì. Fa abbastanza ridere che bevendo qualcosa aumenta lo slot. Cioè dammi un pezzo di stoffo per fare un allargamento dello zaino e una tasca in più. Però va bene. Ora. Ok. Junk. Grazie mille. Urca madonni. Sette abbonamenti. Buongiorno Rajenboom. È una bomba. È una bomba. Grazie mille per gli abbonamenti Junk. Sei impazzito. Grazie. 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 Cobra. Carlitos. Satoru. Fuser. Excuse me. Where is the bathroom. Kipoli. E Mel. Benvenuti nella classe. Professor Quarzo. Ringraziate Junk perché si è magnato il cervello. Perché gli piace il gioco. E quindi ha regalato 800 abbonamenti. Grazie Junk. Grazie grazie grazie. Troppo gentile pure tu. Sembra molto minimale ed efficace il menu. Assolutamente. Sì. Sì. Grazie in sacco Junk. Veramente. Apprezzatissimo. Ah vedi. Se uno volesse vedere la città. E rendersi conto più o meno di quanto è grossa. Potrebbe provarci da qua. Paolo. Ehm. Ehm. Pure tu. Grazie. Grazie. Grazie un botto pa. S. Greats. Balbo Italo. Reigns. Flycioppa. E Mighty Ignorance. Benvenuti nella classe. Professor Quarzo raga. Grazie un sacco pure a Paolo. Grazie grazie. Se ci beccavo in giro te... Te... Te pago da pe. Grazie un sacco Paolo. Veramente. Dico così perché Paolo è delle mie zone. Grazie raga. Troppo... Boh. Troppo gentili. Troppo gentili. Ma questo perché quando mi piace in gioco si vede immagino e quindi sia... Sia questa la questione. Vedete? Sono l'una e... Non lo vedete? Scusate. Non lo vedete perché c'è la mia webcam. Ma sono l'una e dieci a Sacrament in questo momento. E ti indica anche... Aspetta va la devo far vedere. Scusate. Sposto un attimo la webcam perché... Sta cosa la voglio far vedere. Vi segnalano l'ora e anche... Vedete? Segnano l'ora e pure il tempo atmosferico immagino che sia quel sole sulla sinistra. Che però non riesco bene a comprendere. Senti ma se io faccio così no? La metto qua. Dà fastidio secondo voi? Oppure... Semplicemente la metto qua. Così che rimane... Rimane lo spazio e lo vedete. No. E nonostante sia in Early Access è già fantastico secondo me. Ripeto. Chiaramente c'è bisogno di qualche aggiustamento a livello di ottimizzazione. Però... Oh, Scarlitos. Ho detto benvenuto. Ho bentornato. Ti devo dire a te. Ciao Claudio. Sai mica la durata di questo Early Access quali contenuti ci sono? Allora da quello che so dovrebbero essere una quindicina di ore. Di contenuti. Però non so bene effettivamente se è così. Insomma, bisogna giocarlo per capirlo effettivamente. Però se vi interessa... Punto esclamativo Instant. Voi potreste anche acquistare il gioco su Instant Gaming. Io sono affiliato a Instant Gaming. Quindi acquistandolo lì date una mano anche a me. Vi ringrazio. E oltretutto, questo lo dico per voi. Più che per me. Potete anche partecipare ad una giveaway mensile. Una volta al mese viene estratto uno di voi che vince un gioco a sua scelta. Vi arriva una mail e vi dice avete vinto, avete perso. Quindi, giveaway, Instant Gaming. Se volete supportare il canale, questi sono due modi gratis, tra virgolette. Anche se su Instant Gaming il gioco lo comprate, ma l'avreste comprato comunque. Se no potete fare come fanno quei matti di Junk, di Phil, di Paolo. Che donano buon aumenti e sabbonano in continuazione. Il passo innominato. Ok. Ma ma inquietanti questi, eh. Oh. Perché noi siamo rotti, capito? Anche lei come Dio trova un senso persino in ciò che è rotto. Noi famo schifo. Però lei... Trova un'utilità. Est, verso il suono del metallo della carne. Oh, raga. A me... Cioè... Ma veramente a livello registro... Cioè, proprio di... Eh... Messa in scena pure dei dialoghi, le cutscene, piace veramente tanto. Ammazza. Che mazza. Ora, io volevo andare al mercato e dal fabbro per sistemare gli oggetti. C'è il mercato, c'è il fabbro, dove stanno tutti? Cerchiamo un attimo. Sono troppo curioso di provarlo. Ma boh, non vorrei che giocarlo a piccoli pezzettini man mano che viene sviluppato perdo l'essenza del gioco stesso. Non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente Claudio, capisco molto bene. Io ho talmente tanta voglia che me frega lo gioco. Però... Però effettivamente è una preoccupazione che ho anche io. Cioè, se io mi faccio tutto l'Ely Access, poi quando esce il gioco, ho voglia di giocarlo... Probabilmente io l'Ely Access me lo farò più di una volta, in realtà. Winnic. Eh. Uh... Una missionina? Vai! Darak, il signore della guerra degli insorti, nelle paludi. Ci andiamo subito adesso, eh? Chiado e gira sul mio notebook di lavoro? Purtroppo dubito. Ok. Andiamo a far fuori Darak. Nelle paludi di Orban. Guarda con la piazza di Washington. Non credo che hai salvato. Ok, va bene. Prede pedoni, Darak. Mostra sulla mappa. Ok. Io dove sono? Lì. Quindi io dovrei ritornare indietro, sostanzialmente. Posso usare il teletrasporto, però. Questa... Odessa. Anche il doppiaggio è molto bello. Sì. 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 Questo è indie solo... In parte perché... Per tutto sto doppiaggio ci hanno speso un po' di soldi secondo me. E anche per la localizzazione. Sì. 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 Ok. Allora. Veramente bello. C'è poco da fare. Io aspetterò il gioco completo per giocarlo su console, ma devo ammettere la tentazione di prendere l'early access e... Eh, lo so. Perché c'è... Tira un sacco. È bellissimo. Che genere di gioco è? Sia RPG che slash strategico. Drumcooler è un action RPG isometrico. Eh... In parte soulslike nel combattimento. Andiamo un attimo su. Voglio vedere cosa c'è. Forse Rino. Sound design fantastico, lo ripeto. Per la cinquantacinquesima volta, lo so. Scusate, ma... L'ha fatto. Cos'è? Avviso, il lavoro e l'impalcaturo sono stati interrotti per mancanza di risorse e interesse. Venite a trovarmi nella piazza centrale una volta attenuti i materiali per rivelare... Eh, capito. Cioè, noi dando materiale a Donos, lui... Fa ricostruire pezzi della città. Noi praticamente investiamo materiali su... Per la ricostruzione della città. Qui impiccano la gente. No, questo è simpatico, eh. Miseria. Lassù c'è un po' d'erba. Fumiamocela. Quella è la piazza principale, quindi siamo vicini. Cerchiamo di scendere di sotto. Ma posso scendere pure da qua io? Dimmi te sì. Ok. Esplorando il corpo umano quante cose che troviamo. Vai, di sotto. Questa che... perché grida? Quello è lui che costruisce! Danos! Io fanno me. For me sei te. Sì, sì, sono molto... Con le mie mani i vostri pezzi di rame possiamo far tornare sacramento al suo vecchio splendore. Se vedete qualcosa che serve una ristrutturazione venite a riferirmelo. Persino i banchetti dei commercianti possono essere migliorati. Beh... Bello! Guarda, gioco col morto. Mi sta piacendo tutto. Non c'è nulla che non mi piaccia al momento. Io sono ancora indeciso... Se prendo quando ci da per console oppure no. Non sono capace nei Souls-like ma ho avuto la sensazione che sia molto più permissivo. Eh... sì, 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 sì. Assolutamente Carlitos, ma proprio al 100%. E questo poi ha comunque un approccio che... A parte il combattimento che è Souls... Il resto non lo è. Anche il level design è un po', se vogliamo... Reminescente dei Souls-like. Ma senza i nemici che responano, il falò, eccetera, eccetera... Anche esplorare... L'esplorazione prende tutto un altro sapore. È comunque differente. È... Veramente particolare. È veramente un unicum, mi viene da dire. Non si perde esperienza quando si muore, eccetera, eccetera. Eh... Quando lo vedremo su console non si sa, Eddie. Purtroppo. Sappiamo che arriverà un... Aggiornamento per il multiplayer. Un aggiun... Con co-op e PvP. Da capire come PvP, se c'è un'arena, se... Non lo so. Eh... E poi un altro aggiornamento per raggiungere le parti di storia che mancano. E di mappe da esplorare che mancano. Creazione di progetti. Scala all'oggi. Crea un passaggio diretto al mercato di sacrament. Ho un zero. Ce li dobbiamo portare dietro. Io ce l'ho al minerale di rame. Questa è una cazzata. Perché sono diventate gialle? Offri di più, offri di meno. Aspetta. Offri tutto. Acquista. Incudine. Per creare armi e armature. Ah, vedi? Questa è la parte proprio survival. Sostanzialmente. In cui c'è tutta la questione del crafting. Tavolo alchemico. Per cucito. Da lavoro. Fornello. Cavalletto per concia. Filatoio. Segeria. Fornace. Mi servono comunque più materiali a prescindere. Però... Questo cos'è? Eh? No. Sala della guerra. Che sarebbe? PvP. Dangerous. Ok. Se vedete in alto a destra vi dice il livello del... Del posto che stiamo affrontando. Questo è pericoloso. E ovviamente dobbiamo capire perché. Bacche focose. Erba... Dracaena. Sembra che in realtà sia... Cioè che non ci siano nemici. E' un posto in cui fanno... A Game of Thrones a 3000. In cui fanno le riunioni prima di decidere... Se invadere qualcun altro eccetera eccetera. Molto bella oltretutto. Qua c'è anche una porta. No non voglio... Voglio aprirla la porta. Non mangiattia. Ancora la localizzazione avete... Avrete notato anche da ieri non è completa. Ci sono delle... Paroline che ancora sono segnate come... In inglese. Però... Chi se ne. Che poi nelle access con l'italiano... Già non si vede molto spesso sbaglio. Vero Claudio? Vero? Vero. Bravo Junk. Grazie che hai condiviso. Io voglio andare alla piazza principale. Serem. Oh il fabbro. Dai. Sono vivo. Per tipo... Niente ma sono vivo. Visitando sacrament incontrerai i numerosi commercianti che offrono servizi unici. Potrai acquistare oggetti e risorse speciali. Potenziali incantare e ricopiaggiamento. O persino intervenire sulla città di sacrament. I banchetti dei commercianti possono essere migliorati per aumentare i servizi offerte. Will e Fillmore. Fillmore che è quello che abbiamo incontrato no? Buono di essere dietro dietro le piazza sacraments. Mi ringrazio per cercare il modo. Da ora... Perchè resta nella mia forza e lasciare i heroics a te? Perfetto. Acquista. Lui ha... Questo. Disegno set dell'orso temerario. Istruzioni dettagliate su come creare un set armatura dell'orso temerario. Serve un'incudine però. Quindi per adesso non lo prendiamo. Vendi abbiamo. Potenzia. Ripara. Ripara tutto. Potenzia adesso. Vedete? Io sono andato su potenzia ma è rimasto sul ripara. Adesso sono andato sul ripara e è su vendi. Ok, potenzia. Serve un frammento d'arma e un lingotto. Due lingotti di rame. Io sta roba ce l'ho ma ce l'ho nel forziere. Quindi io mo' mi tocca andare al forziere e prendere la roba. Questa è stupida. Questa va cambiata. Non c'ha senso. Anche perchè io mo' chi cacchio si ricorda dove sto? Non mi ricordo eh. Non mi ricordo. Ci proviamo a tornare. Se vediamo che è un'operazione troppo complessa. Ah queste sono le sarte. Matte, ma sarte. Mary, we agreed. My name goes first. Mary, we agreed. Questa è so... Irlanda? No. Non so, irlandesi se non sentiva. So... Ci hanno un accento particolare inglese. Acquista. Giacca del timoniere. Ustia. Bella eh. Per adesso io non acquisterei niente però. Oh qua. Piccionaia. Mercato paluti di Orban. Dobbiamo andare alla piccionaia quindi andiamo su. Questo è il coso. Ma io questo lo posso... Se lo invoco, no? No. C'ho sempre un zero di salute. Grazie. E mangiamo. Posso? Non posso mangiare. Ah, posso. dare la caccia a ricercati? Come no? Via, via. Uscirà per PS5 anche, sì. Ok. Dimmela sta cosa, vai. No rest for those of us keeping chaos. No rest for the wicked. Sì, sì, ovviamente. Caccia alle taglie. Uccidi i ratti lacerati che infessa le paludi di Orban. Ah, ci sono le... Uuuu. 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 Sta roba è troppo bella. Sta roba è troppo bella. I ratti. Ricompense. 1 da argento e 25. I lupi alla fortezza del marinaio. L'enigma dei crostacei. Una specie di granchi ha sovrappopolato la costa e ora si sta riversando dalla fortezza del marinaio. Serin. Potesse esterminare quelli che hanno invaso dalla parte occidentale la fortezza? Ovviamente. Un gruppo di insorti e naufragato. Secondo il maestro l'hanno battuto due dei nostri uomini. Fantastico. Settimanali. Sacrament in pericolo. Nel nostro riguardo è stata infettata dalla pestilenza e si è rientrata nella sala della guerra. Uccidi il colosso lacerato nella sala della guerra. Io stavo rischiando parecchio. Una coppia di selvaggi. Una coppia di bruti alle secche. Proviamo questo. Posso prenderne più di una? Ok, mia cura. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììì. Due. Ok, una per tipo, una settimanale e una giornaliera. Va bene, andiamo. Prima... ...a uccidere il colosso. E poi vediamo se fare anche l'altro oppure no Però io dovevo andare su per fare un'altra cosa Mannaggia a me Troppe cose da fare Allora facciamo così Andiamo alla sala della guerra Questo canta e lavora capito Fantastico Su Steam voto 6 su 10 Vabbè la gente non capisce niente raga È abbastanza chiaro Questa cosa delle missioni ti lascia perplesso A me lo sai che mi sta De solito pure a me Ma adesso mi sta a prendere bene Perché comunque vedo che Non è stata sacrificata la qualità della campagna Per introdurre questi elementi di gameplay Che possono strizzare un po' l'occhio Ad un endgame La stanza della guerra Deve che stava? Io mi sono buttato di sotto per arrivare qua Questo è il mercato La stanza della guerra stava sopra Come salgo? Così Ok E poi così Era qua la stanza della guerra? Aiuto No ho fatto un giro dell'oca Non ricordo assolutamente dove stia Lì c'è il contadino Non era qua Aspettate eh Mo ci arrivo Niente secondo me era su Può essere che era qua su Sì era qua Era qua Oh ci siamo Vediamo se troviamo Sto lacerato gigantesco Da far fuori Vero cyber E' una roba incredibile Incredibile Io sto Veramente Sono veramente contento E Torno a consigliarvi Se volete acquistarlo Link Instant Gaming E Fate un favore anche a me Perché sono affiliato Ma comunque Ragazzi Anzi E potete anche vincerlo invece Vincerlo con una giveaway Cioè una giveaway mensile Se volete partecipare E poi potete scegliervi Il premio Il gioco che volete E quindi potrete scegliere Anche questo se volete Eh C'ho la roba Vabbè Andrò Intanto usiamo una zuppa di funghi Perché mi pare che mi serve Eh Equipaggiamo La zuppa di granchio Qua sotto che c'ho Olio Per lame Bomba di brandelli Fiala equilibrio Fale concentrazione Fale concentrazione potrebbe essere utile Però non ho mai lanciato una bomba Senti ma io posso fare Sta cosa stronza Oh no No non la posso fare più Lui mi sa che è forte Così Mangia Devo rimangiare Bomba Eeeh È bloccato dalle sedie Ora riproviamo però ovviamente C'ho meno cibo Ma chi se ne frega Era quassù vero? Sì Questa è una taglia Ah guarda Fantastico Lo ottimizzeranno con il tempo Assolutamente Sì 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 Ovviamente In early access Non si può pretendere Il 100% Ma cioè raga Cioè uno Prende il gioco in early access Per supportare Lo sviluppo del gioco Eh Cioè Tu lo sai Che magari Non ci giochi nemmeno Però supporti Lo sviluppo Ce la facciamo Secondo me A fare un colpo Così? E qua Dai Dai No No Con lui non funziona Allora mangia Mamma che crocchie Che tira Uh Lui è troppo forte Per noi Raga adesso È troppo forte Fa un male Incredibile Vers Sometime name Fini Ho Ho Ti Ho 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 No Quella forse non si parria nemmeno No Ho sbagliato per usarla quando ero più Curate È fattibile ma è tosto Ups Ups Eh ma cristo È fattibile se può fa Se può fa Questo lo battiamo Mi serve il fuoco per cucinare però Dove sta il fuoco Eh ste robe forse dovrebbero Un attimo Perché se io voglio andare a recuperare le robe nel bau Allora prima cosa Non mi dovrebbe servire avere i materiali addosso Per Potenziare armi O ricostruire la città Ma questa è una cosa che potrebbero sistemare con l'early access Poi Devo cucinare dei cibi Fai in modo che il bracere sia più Facilmente raggiungibile o che si possa fare La stessa cosa da altre parti Io Credo che da qua si passi Da là Da là Da là Da là Da là Credo che da qua si passi Dove però Su Proviamo Sì è da ste Boh Boh Difficile un po' orientarsi ecco Cioè io devo avercelo Facile da raggiungere il bracere Io odio il sistema di cura consumabili Allora a me piace Perché sono riuscito a trovare il modo di non Rendertelo abusabile Perché c'è il cooldown Però Devo poterle creare un po' ovunque Non che devo andare a cercare i faloi in giro Sto fatto il giro dell'oca Facciamo così Ah no 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 Il falo Eh ma infatti Chi ti ha detto niente Piccionaia su È in picciona Vicino alla piccionaia Te piace sonno Sonno tala via Ma lo troviamo eh Minimappa No se tu Allora se tu hai scelto di non mettere la minimappa Vuol dire che Sei fiducioso Del fatto che il level design Si è fatto talmente tanto bene Che tu riesci a far orientare il giocatore Anche senza minimappa Ecco I souls la fanno meglio questa cosa Oh Qua La città è andata a puttane Eh detto beh Era qua Allora fatte le scale sulla sinistra Sì Madonna raga Cioè capito Non può S così Ok Ora riscendiamo Sperando di trovare la strada Qua Sì ne Ok ci siamo Ci riprovo Con il Perry E se può fa Prova adesso GeForce Now sulla tv Con il DualSense Non va Prova con un altro pad Vabbè ma lo è Ma lo è Maddi Dai su Non ci lamentiamo Di Early Access Di No Rest for the Wicked Che ce ne so Altri che sono stati Merda E Io sono in generale Contrario All Early Access Sta roba ve la dico Però No ho sbagliato No ho sbagliato Tasto Oh E però Mi devi far Zà Eh Cristo Eh Cooldown Divertetelo un tanto Ha passato Oltre la Cristo Del Cristo È un pretesto Per allungare I tempi di rilascio Potrebbe anche essere Semplicemente Un modo Per ricevere feedback No Cioè non è solo Quello Dire che è solo quello È un po' esagerato Ciao Axel È spettacolare Secondo me Sì Spettacolare Ragazzi lo provo L'ultima volta Poi se non gliela faccio Andiamo avanti Eh Però Visto che è fattibile E lo vedete anche voi Che se può fa Niente Questo non è Questo non è un tentativo Che può contare Non è un tentativo Che può contare Questo è il tentativo Che può contare Se no andiamo avanti Proviamo a Portarci dietro Un po' di materiali Per la Come si chiama? Per ricostruire la città Vediamo cosa possiamo fare E poi andiamo Da La tizia Cattiva Che ci aspetta Che ci aspetta cura ti niente come cazzo faccio a morire così male sicuro del Perry invece il Perry n'era sicuro per niente dai l'ultima volta ci provo un po' basta un po' basta davvero eh però l'ultima va fatta l'ultima ve lo giuro eh ma che secondo te è un pretesto lì ha capito questo è il problema Maddy non è un pretesto probabilmente eh fanculo va non è un problema non è un problema Cura lì Porco Giuda Cioè Per curarsi A volte c'è da aspettare un'ora e mezza Non capisco perché Cioè devo premere più volte Vabbè basta Andiamo ad un'altra parte Anche perché sto rompendo tutto L'equipaggiamento Quindi Andiamo dal fabbro De che stava Qua No mi saldi no Questa è l'uscita della città E va bene Però no andiamo dal fabbro E ripariamo le robe Ora avrà il momento di crisi di soldi ed erbe Sì Perché il fabbro È stronzo Cioè costa Eccolo No acquista scusa È stronzo nel senso che chiede i soldi Ripara Uh Ma ha consumato un soldo di quell'altri Facciamo una cosa Andiamo un attimo avanti con la principale Abbiamo visto che ci sono le missioni secondarie e tutto il resto Mo andiamo un attimo avanti con le Con la principale Le missioni Le missioni non le posso vedere qua Nord est di sacrament Esatto Quindi su e poi De qua Ah però devo salire ancora Qua era esatto E ancora qua Vediamo Dove ci porta Un po' di stuttering Raga Early access Un po' un po' pesante In questo momento Allora No Taglia di morte Difensori di Nellap Cavalieri pazzoi Di un'armatura pesante A servizio della casa di Nellap Che secondo i registri Sembra non sia mai esistita Ottimo Sostengono che tutti gli altri Siano intrusi invasori del suono Del proprio sovrano Il loro emblema Sembra raffrigurare un pollo Carinissimo Tanto con loro E io posso procedere Infatti Dio mi ha Benedetto Passo innominato Allora Topo No Non è che ci abbiamo tanta roba Sussurro Dangerous Ho letto Ciao Sul canale stealth Quando si muore Si ricomincia l'ultimo falloccio E si va a recuperare le anime Allora No Ovvero Quando si muore Si riparte Dall'ultimo sussurro Ma i nemici Non responano Non si perdono Punti esperienza E quindi non bisogna Andarle a recuperare Nel video Nel video di prima impressione L'ho chiamato Souls light Che effettivamente C'ha il combat Dei souls La progressione È abbastanza simile A quella di souls Anzi Molto Ma poi Per tante altre meccaniche Non lo è Anche il level design Secondo me È reminescente Di quello di un souls Fungo Granchi Patate Mi servono le ricette però Perché se no così Oh qui posso pescava Vediamo Ci sarà una carpa pure qui Anguilla Incancrenita È una trota Peschiamo anche qua Anche a livello Aspetta 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 Scusate Fatemi pesca Perché se no Mica gliela faccio Infatti Non ce la faccio Ok Anguilla Incancrenita È trota cruda Come dico sempre Se li pescassimo Se li pescassimo Teschio di cielo Se li pescassimo Giaccotti I pesci sarebbe Una figata Però Li peschiamo crudi Ce l'ha bisogno De scriverci Sia molto meno Punitivo Di un souls Io mi ricordavo Che nella demo Di un mese fatti Curare falò O sono rincoio O hanno cambiato Sai che non me la ricordo Sta roba Potrebbe essere Che c'hai ragione Anche il rapporto Danni inferti Degli nemici Lo vedo meno Esacerati Sì 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 Assolutamente Assolutamente Sì Ok Quindi io vengo qua Ma non posso andare A nessun'altra parte Ho recuperato Degli oggetti Che ci sta But I can't go anywhere else Ok Adesso tocca Fa pure un video Con i difetti Del gioco Che Qualcosina c'è Del gioco Dell'early access Allora Facciamo fuori prima questo Ok Ah Stronzo Cinghialotto Anello della runa E mela Senti Mi fai magna una mela Farà poco o niente Però almeno Ok Cavacca Mi ha preso Vabbè S'ho caduto De sotto Che forse è un bene In questo momento Perché sennò Questa è una zona Chiaramente di livello Un po' più alto Rispetto a quello A quale sono io Al momento Oh Oh Mamma mia Oh Come sa Ma non ho atti Scusa Scusa Non l'ho attivato Questo Il sussurro Lo attivai Vero Come non l'ho attivato Tanto Tanto qua Sta esplodendo Tutto Non so Perché Ero sicuro Di averlo Di averlo Attivato Invece Niente Non lo attivai Non lo attivai Mannaglia Mi piasse In colpo Vabbè Andiamo su a piedi Quindi su E poi a destra Comincio ad avere Poca roba Per curarmi Statterino Lo statterino Che ino non è Proprio Zomp Zompiamo Non l'avevo attivato Perché l'ho premuto Ma non me l'ha attivato Cristo Dai Oh Levate Al cazzo Devo anche invocarlo Non so cosa fa Invocarlo Ma invochiamolo Ok Ora Lo stronzone Di qua Mamma che crocchia Di qua Ok, loro non saltano. Ok. Spada incrostata di sangue, fiala d'equilibrio. Vediamo un po' se abbiamo trovato una spada buona. Scala con la forza e basta. E è peggio del piccone che abbiamo, quindi va bene. Ignoriamo. Avrei app su Game Pass non si sa, non si sa. Sì, 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 li ha, non, cioè, non affronti mai i nemici quando sono più di uno contemporaneamente, ma è sempre uno per volta. Qua giusto per farti rendere conto del posto. Io andrei prima a sinistra e poi di qua, perché questa è chiaramente la strada principale. Eh, ma sei stronzo proprio, allora. Io però. Non mangio nemmeno a posto pranzo. No, io c'ho una fame di Dio. Dopo mangerò. Dopo, ovviamente, però. Zampe di tacchino. Per creare consumabili. Teschio di sirena. Lo sporco teschio di una creatura originaria da sacra che non è mai stata amata da nessuno. Può essere usato per creare un migliorare equipaggiamento. Cacchio, una sirena. Mai amata. Purina. Beh che le sirene in realtà, se ci pensi, dovrebbero essere degli esseri brutti e deformi. Cioè, pensateci, tra tutte le specie animali, i pesci sono talmente poco rispettati che ci sono i vegetariani che mangiano il pesce. Che non riescono a capire che se tu un animale lo chiami pesce, non è che non c'ha la carne. C'ha la carne di pesce, ma sempre carne di un animale vivente. Ma lasciando perdere tutti questi discorsi, proprio un animale poco rispettato. Perché come fai a empatizzare con pesce? Adesso, non è per Dio, eh. Molto difficile. Bravo, bravo. Lui non scende, vero? Poteva andare meglio, eh. Uh. Ma ha avvelenato pure in qualche modo. Uh. Porca puzzolana. I funghi crudi. Oh, difficile qua, eh. Miseria. Fino a che ora stai? Non lo so, raga. Vado avanti un po' così a... A sensazione. Eccoti. Eccoti. Eh. Vieni giù, però. Lui c'ha l'arma. Eh, che cazzo. Staffa il culo. Vieni giù. Stronzo Ammazza che mazza Mi serve un level up ma proprio assolutamente Mi servono consumabili cose Aiuto Chi è? Sento muoversi qualcosa Chiave della vecchia casetta Senti io non dovrei combattere adesso Ultima cosa che dovrei fare è combattere Ho modo di Sì c'ho un'altra C'ho un'altra cosa da mangiare aspetta C'ho il granchio ripieno di funghi vai Senti è buono un granchio ripieno di funghi Combattiamo decentemente adesso Unico E' impegnativo è bellissimo Tutto insieme Tutta sta cosa per niente Dimmene no Sì c'è il perry esatto Come avete difficoltà Guarda in realtà dipende dalle aree in cui sei Ci sono delle aree che sono sicure Cioè in cui sei del livello adatto per affrontarle E vai tranquillo Questa che è un'area dangerous Invece Oddio che schifo siete Oh mio dio Oh No nell'acqua Ah beh Ok Nell'acqua non posso mangiare Sono stronzi E lui è morto però Non so perché Ok Ok se vanno nell'acqua muoiono No la volpe Porrina Non la volevo Non mi attacca vero? No Oh Tu madre Cazzo Questo è un mazzo fra due anni No No Non mi dica scava E invece scava Oddio i consumabili Io pensavo che te ne faceva trovare tanta di roba Che potevi cucinare tranquillamente No? Così che devi tribolà Devo tribolà vero? Devo tribolà Che cazzo No non si sa quando uscirà Marco la 1.0 Però è veramente bello Ho ucciso la volpe non volevo raga È successo Volevo uccidere solo lui ma Non è stato possibile Allora ritorniamo di là Da bravi imbecilli Io non ero andato quassù comunque E se mo dici così non tanto Chi sei? No In inglese Non c'è niente in quella direzione Tranne una Tipo mina Distrutta Un calcello chiuso E adesso Un esercito di inquisitori Vedo che Ellsworth sta con loro Grace is the pass? Cos'è il the pass? Vabbè Finalmente grazie al pass della sua presenza Come stai vivendo Orvin? Ti serve una mano con la fattoria Orvin? No Non ha detto niente de niente Le La terraferma Guarda un po' con disprezzo Con sufficienza Le isole Dei suoi territori No Sacrament Fa la stessa cosa Con quelli che vivono Al di fuori della città Ok Funghi No i funghi però Non so tanto L'erba Mi serve a me Conoscete uno spacciatore Seconda battuta Di questo Allora Allora Me volete far bestemmiare Ho capito Perchè prende fuoco Con incentivazione o questo Ho capito Cura te va Ammaggia Mi stavo curando nel momento più giusto Bam bam Che build sto facendo Build Forza fede ma perché ho trovato tre armi in croce Questa è la più potente che ho trovato E sto usando quella Io vorrei uno scudo che Fa il 100% dei danni Che nega il 100% dei danni Una volta trovato quello sarei a cavallo io Oh cavallo Quindi sappiamo che Il tizio spona Nell'ultimo posto in cui è sponato Ovvero Qua Eh tu madre Questa è Questa è Oh è morto Oh E non mi ha dato niente se non un po' di punti di esperienza Cioè per carità Mi aiuta niente davvero però Patate Con in mezzo manzotin Ma qua? Moriamo? Te prego non morì Bacche focose E Ampolla peste Una bomba Fa 30 danni da peste Sterba dracaena Vuoi dire che c'è famo? Cucinata con altri ingredienti Mi serve una ricetta però Questa la posso usare così Ok Allora adesso invece di andare da questa parte Dove credo ci sia il delirio Ovvero un cancello chiuso Un po' di funghi Qua si scavalca? No Si scala ma non si riesce a scendere Da nessuna parte Oh tensione Ah Perché io dovrei voler star qua? Non lo so Qua bisogna tornarci poi Bisogna tornarci Da pc premendo il tasto ESC Non mi esce dal gioco Hai riscattato un'azione ban? Dice Fuzz Mi sa che non lo ascolterò Fuzz Mi dispiace Ci famo il brodo Chissà quanti anni Dovrò aspettare il ps5 Guarda io credo uno massimo Però adesso non vorrei Darvi troppe speranze Vane Però credo eh Ah C'è un modo di entrare E di prendere I guanti del guardiano di sacra Ok Devono migliorare anche I Le risposte ai prompt Sullo schermo Che a volte Ti compaiono Ma tu non puoi far niente Praticamente Cioè non compaiono Nel posto giusto Ecco Migliorare di ferro Non scusta Muccio Deve andare là Mi sa Ti è Unico scopo Arma una mano Stiamo trovando Tutta roba comunque Comune eh Patata Fungo Patata Dai fammi fare una zuppa De patate e funghi Cos'è difficile Che devi trovare C'è E' andato di sotto Ma non è morto Nessuno Eh Qua L'attacco speciale E' veramente forte Uh Ma visto quello Non ho visto quell'altro Ehm Facciamo così Vediamo prima cosa c'è di qua Uno Incazzatissimo Ok Sono morto io qua There's no other way Caputana Ragazzi Ah Un altro Da due scappi Tua madre Tua madre però E' una grandissima Bravissima Ragazza Bravissima Ehm No Savo E' un early access Quindi non è completo Cioè E mo' devo tornare In città Per far Per riparare Le armi Sì Non vorrei Ma sì E poi Torni a sacra Mentre fai Ottanta Kilometri Per trovare Il fabbro Che sta Che culo Eh insomma Abbiamo trovato anche questi Ah richiedono livello 11 E unico scopo Che è un coltello E comunque volevo ripar No Non posso Ho 95 Cioè C'ho 12 più 1 Ecco Questa è una cosa Che va un po' Che va un po' Sistemata Per chi non posso Andare in giro Con tutto il vivaggamento Distrutto C'è un gioco Che ha diversi problemi A livelli di redesign Delle cose riguardanti Quality of life E' questo 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 sono d'accordo Flax Assolutamente E' un ottimo gioco Ma a livello di quality of life Devo darsene una calmata Perché Sta roba Dell'equipaggiamento Si deteriora Non c'ha tanto senso I consumabili Scusate Il fatto che i consumabili I materiali che ti servono Per creare consumabili Per curarti Sono difficili Da reperire A volte O non hai la ricetta Adatta per i materiali Che hai E queste sono due cose Un po' Che devono essere sistemate Secondo me Allora Io non sono andato di qua Prima Fate vedere che c'è Prima in davanti Dall'altra parte Dall'altra parte Ok Level up Intanto Me la zuppa di funghi Pesce allo spiedo Oh me serviva Level up Allora Ok Se io metto Tutti e tre i punti Su fede Vado a dodici Con l'attacco Cioè aumento di uno L'attacco Se io invece Li metto tutti su fede Forza Vado a dodici Ok Mettiamo uno su forza Uno su salute E un altro su vigore O un altro su salute Visto che siamo in un'area Un po' più difficile Forse così è meglio Eh ma Allora La differenza è questa Venturgido Che un gioco Può essere Impegnativo E quindi soddisfacente Oppure frustrante Queste cose qua Sono frustranti Non sono soddisfacenti Perché il fatto Che tu muori E ti si Deteriora L'equipaggiamento Non comporta Che se tu sei più bravo E ti impegni di più Hai più soddisfazione In cambio Comporta solo La rottura di scatole Di dover Tornare in città Fatte riparare L'equipaggiamento Se non c'hai soldi Bestemmi tutto E dici Vabbè Se romperà qualcosa Non ha senso A mio avviso Questa non è difficoltà Ma è proprio Rompere i coglioni Volontariamente al giocatore E nonostante Io questo amo Questo amo Questo gioco Lo ami profondamente Già E si vede Ste robe Mi rompono i coglioni E me le devi Toglie Basterebbe anche Riparare dal menu Sarebbe già meglio Sì C'è una roba Per ripararle Mi pare Aspetta Se non sbaglio Eh Ah Lo lasciate là Quindi non lo so Ah no Aspetta Questo qui No No L'olio per lame Non fa quello che Speravo facesse L'olio per lame Fa solo far Danni Ulteriori Ok Attraversiamo Qui mi pare Che c'eravamo Già stati Però no Cioè che l'avevo Senti ma tu sei in testa Di Eh Sai di cosa Anche quello Venturgido però La stessa cosa Per le cure Cioè non è che è difficile È una rottura di palle Io posso tornare indietro A fortezza del marinaio O come si chiama E farmarmi le artemisie Per Le artemisie Come si chiamava l'erba Che usava Vabbè Farmarmi l'erba Che mi serve Per fare le zuppe Dei funghi Ma perché Non è qualcosa Di soddisfacente È Un lavoro È una rottura di scatole È qualcosa di noioso Quindi io Manderò un feedback Agli sviluppatori Perché mi hanno scritto loro Quindi manderò un feedback Chiedendo queste cose Che non Danno nulla A livello di gameplay Ma sono solo Una rottura di cazzo Andrò anche sul Discord Eccetera Insomma Gli vado a rompere le scatole Perché voglio che Quando il gioco esce Sia Nella miglior forma possibile Perché è un gioco Che mi piace E che si vede Che è fatto con passione Oh siamo dove prima Stronzo Dita del Bruto Questo è grosso? Ok Allora abbiamo Una via qua a sinistra Ci porta da un ratto Vediamo che minerali Troviamo qua Ci ho dovuto Rirannare la parte L'isola iniziale Perché avevo rotto la spalla Non ho modo di ripararla Eh capito Queste cose qua Non vanno bene Non ci devono essere Sì credo questa sia La prima roba Che gli danno I movimenti cambiano In base alla grandezza E alla pesantezza Delle armi Sì Sì Io adesso sono Medio Se diminuisco il peso Divento leggero Se aumenta Diventa pesante E la cosa figa è che Se qua diventi Pesante Ti aggiungono anche Una mossa Cioè puoi dare le spallate Ai nemici Per buttarli a terra Quella è una cosa che Secondo me è controversa Per alcuni potrebbe essere Figa Per altri potrebbe essere Una facilitazione eccessiva Che ti spinge ad utilizzare Sempre le build Pesanti Bisogna insomma Bilanciarla Un pochino Eccola No L'ho trovata L'artemisia Mo se trovo un falò Là c'è un lupazzo Qua c'è uno stronzo Vieni qua E famo così Prima arma Strana Com'è che si chiama questa Vabbè Quella è viola Integrità di mezzata Ma Gli attacchi infliggono Il 15% Di danni da cielo Possibilità di guadagnare rame Quando uccidi un nemico Più 21 concentrazione Più 13 vigore Per 20 secondi Quando esegui una parata Beh Beh Quella che ho io Però è più forte Cioè fa un danno in più Vabbè Da vedere Sì perché Guarda Anche l'ambientazione Si vede così Era meglio Che non fosse Che non ci fosse stata Quella roba Però Ok Allora Ci conviene Che deficiente Che sono Sono proprio un coglione Ci conviene Fare questo Cucinare 35 salute Mi sto lamentando Che non c'ho le robe E ho perso tipo Un quarto De salute A caso Per buttarmene sotto Ho trovato anche L'anello della runa Ok Meglio quello che ho Poi c'è lo spiedo No Questo lo posso mangiare Adesso Così come le bacche Dopo mangiamo Un po' di bacche Allora Qui a parte cucinare Non possiamo fare niente Quindi andiamo di là Dove c'è il lupastro Non sarà facile Già lo vedo Ah laggiù c'è un ammazza presagio Oh fortuna Che si ammazzano da soli Ma io adesso Mi devo curare Sta lì Non capivo Che attacco facevi Morto Bisogna Anche Abituarsi Al roll Perché è veramente Particolare Diciamo così Mo si riparte da qua Sono Ho tutto l'equipaggiamento Distrutto Sono molto contento Di questo Veramente soddisfatto Dove trovi Le emoji Con le fiamme animate Ciao Zema Ma ci sta Che si rovini E si usuri L'equipaggiamento Però Cioè Allora Prima cosa Questo è un gioco Che non punta Ad essere realistico Cioè Anche a livello Di Visual Semplicemente È chiaro Che è un gioco Che ha un'atmosfera Da fiaba dark Diciamo così Quindi A me non interessa Necessariamente Che sia realista Ma A parte questo Puoi trovare il modo Di renderlo Di non renderlo Una rottura di coglioni Scusate Di non rendere queste Caratteristiche Potrebbero essere Carine Potrebbero aggiungere Un elemento di gameplay Interessante Una rottura di coglioni Gli fai portare Una pietra Con la quale lui Cosa Le lame Non lo so Cioè Trovi il modo Di non renderla Pallosa Per il giocatore Perché quella È la prima cosa È un videogioco C'è La parte Impegnativa E soddisfacente Non ci deve Essere la parte Frustrante No Perché la frustrazione Non è Non è parte Del Del video Giocare O del Intrattenersi Con qualsiasi Prodotto Videoludico O Di qualsiasi Altro media Si ci sono Sono delle cose Da limare Assolutamente Assolutamente Però ecco Considerando Con early access La cosa Non mi preoccupa Molto Intanto io vi Continuo a ricordare Di acquistare giochi Su instant gaming Per supportare il canale Di partecipare Alla giveaway Mensile Per ottenere Un gioco Gratuitamente Cioè Un gioco che scegliete voi Se venite estratti Allora Io Continuo Questa L'esplorazione Ho sbagliato Completamente Zona Completamente Non era manco qua Do sta So So Obriaco So Obriaco Era di là Da Dalle Le travi qua Se lui che è passato Almeno tanto tempo Mezz'ora Che non mi ricordavo più Ok Senti ma Qui non ce l'avamo arrivati Perché ero andato All'altra parte Senti Il perry Non funziona più Che meno che c'è Il tuo equipaggiamento Si è rotto Perfetto Ale L'icona in basso a destra Sembra la divisa di Goku È vero È vero Sì sì Io posso Assolutamente Sentirli Posso assolutamente Sentirli Allora L'equipaggiamento Si è rotto Quindi ora Noi dobbiamo cambiare No Non lo distruggo Lo tolgo Ok Siamo pesanti Però così Amen A sto punto Fiamo 31 E usiamo la spallata Vediamo se ci aiuta Vedete adesso sono pesante Prima ero medio Vedete la rollata E però abbiamo guadagnato Questo attacco Che è una spallata Che butta a terra il nemico In realtà è molto forte Consuma tanta stamina Ma è molto forte Ora la proviamo Contro quei tre test di minchi Viene Buona notte No Non è caduto Eh vabbè Ma siete bastardi Ma siete dei bastardi L'ho spinto di sotto Non è caduto Come la riparo L'arma pugnete Non c'ho voglia Di tornare in città Ma veramente Uso questa E via Questa fa pure Attacchi Questa fa danno di cielo Vedete Chissà se migliora O peggiora La performance E' complicatino La parte iniziale Sembrava un po' più facile Ma qua diventa complicatino Beh Figa le mamme Da quella troccola Sì sì ma la fisica In generale E' figa proprio Cioè a me piace Oh ce l'hai fatta Stavolta Bravo Ah ci riproviamo Per la terza volta Eh Vieni qua Vieni qua Mamma mia ragazzi Mi vorrei curare Mangiamo una bacca Mangiamo le varie di bacche Aspettiamo un attimo Sì sì È veramente un bel gioco Che va assolutamente Appoggiato Adesso 3, 2, 1 Un'altra E adesso Vedi? Così lo butti a terra E adesso A parte che sono 4 E io non riesco Ad affrontarli tutti insieme Ok Ok Buonanotte Granchio ripieno i funghi 2 Vai Qua posso cucinare? Posso cucinare? Ok Qua gli attacchi speciali delle armi Sono molto molto forti Questa cosa va Va sfruttata al nostro vantaggio Non posso cucinare niente Quindi amen Vediamo un po' Patata Vabbè lì c'è altra roba da scavare Ah questa è una scorciatoia per la città? Chiave della vecchia casetta L'abbiamo vista la vecchia casetta noi Dove stava la vecchia casetta? Mi pare di qua Forse è questa Sì è questa E qua ci troviamo Monete Guanti del cavaliere angusto Piatto guanti Che vuol dire? Non si sa Infligge 18 danni da calore Quando esegui una parata Ha Forte Si è applicato un'arma Danni da calore Danni da cielo Molto molto figo Per le build è fantastico Alessandro io lo consiglio Tanto Ci sono dei problemi Di quality of life Che vanno risolti Ma lo consiglio al 100% Nonostante questi problemi Al netto di questi problemi Che comunque verranno Sicuramente Sistemati Tu sorella Prima che il gioco Esca Ufficialmente Nella sua versione completa E ora c'era Questa zona qua Un radar No Non c'è Nel radar Nel mappa schermo È proprio Souls Da questo punto di vista C'è una mappa Che si può Alla quale si può accedere Tramite il menu Ma Te la faccio vedere Non è che sia Super indicativa Ecco Sembra essere grande Come mappa Ok Vogliamo andare qua E vedere cosa c'è Mi sa che Non ricordo cosa c'è I due stronzi Che però N'è rimasto solo uno Tacco critico Echivaggiamento Si è rotto Vabbè L'importante è che È morta questa Ciao Zema Grazie mille Orario e meteo Influiscono in qualcosa Probabilmente Ci saranno Nemici che compaiono Solo di notte Per esempio Con la pioggia Potrebbe essere Che gli attacchi di fuoco Siano meno efficaci E quelli di fulmini Più efficaci Eccetera eccetera Però bisogna vederlo Io ancora Non ho abbastanza esperienza Per poterlo dire Niente per salire Si passa da qua no? Forse no Forse no Se io salto da qui a là Non ci arriverò Mai Ci si però Ah da lì Ok 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 Due Era meglio uno E' sta cosa Che loro non scendono Sono tre lupi Molto difficile Batterli così E invece E' successa sta cosa Che non mi aspettavo Funziona L'attacco L'attacco In caduta Stronzo Che si è rotto Il pipaggiamento Lo scudo No non lo distruggo Ma lo tolgo Niente saliamo La mangi sta cosa Santo Dio Anche questa è una cosa Che devono sistemare Cioè se lui è impegnato In un'altra animazione Ci mette un botto A mangiare Ok Ok Guanti dell'urlatore Cos'è sta roba C'è un corpo A terra Che sembrano Un proprio umano Bacche Le focose Grazie Grazie Mangia bacche Sei diventato Qua si va di là Ci si arriva però Sì Sì Si scatta Il framerate Quindi non è proprio stabile Però Secondo me È accettabile Per Considerando che si tratta Di un early access Cosa sto facendo Senti Senti Andiamo a visitare Anche lui Noo che palle Ma tocca Arrivare il giro Ma guarda da dove Poi No non è capitato Ancora Dark Strana sta cosa Eh Ok Uno E due Minerali Prendiamoli Se potete starlo In piccone Ad esempio Eh Non c'ho Le cose doppie Adesso mi sa Quindi Non lo testerò In questo momento Ferro e granito Dai Prendiamo pure l'albero Va Almeno abbiamo un po' Di materiali Magari possiamo anche Iniziare a ristrutturare Sacrament Sì sono d'accordo Cugnete Queste sono tutte Segnalazioni Che effettivamente Farò Anzi Ci farò proprio Un video Forse Guarda Legno diabete Senso che c'è Il diabete Ok Raga Io devo andare E purtroppo Devo concludere qua Per oggi Perché Ho una riunione Fra un paio d'ore A scuola E Io vi ringrazio Per essere stati qua Vi ricordo Instant gaming Per acquistare giochi A prezzi scontati Sempre Sostenendomi Give away Per partecipare Alla giveaway E poter vincere Un gioco A vostra scelta Al mese Sono giveaway Menziti Quindi sto mese Vincerà qualcuno Il prossimo mese Vincerà qualcun altro Estrazione randomica E Vi faccio sapere A brevissimo Quando faccio la prossima live Potrei Non farla domani E farla domenica Ma devo ancora Organizzarmi Ok Quindi vi faccio sapere Su instagram Telegram Seguitemi Così sapete bene Quando arriva la prossima live E magari riesco a fare Anche nel frattempo Un video Sui difetti Di non rest for the wicked Perché avete capito Che a me piace tanto Però ci sono anche Ecco Queste questioni Che secondo me Vanno Addressed Vanno indirizzate Vanno Attenzionate Sia da parte Di content creator Che da parte poi Di moon studios Che dovrà lavorare Per sistemarle Rendiamo sto gioco perfetto Buona giornata Buon weekend Grazie Buon weekend anche a te Buona giornata anche a te Ragazzi Grazie a tutti Ci vediamo Appunto Vi faccio sapere su instagram Seguitemi su instagram Mi raccomando Social Così lo sapete Ma instagram Youtube Telegram Tutto E Vi avverto in ogni luogo Quindi vi ringrazio Vado a mangiare Qualcosa E ci sentiamo In questi giorni Ok Grazie raga Buona giornata Anche a voi